Ecco, si avvicinano i nostri pregiaccessori A, B e C. Luciana, allora, cosa prevedi? Sarà dura, molto dura. Molto dura, l'importante è non farvi prendere, occhio. Ma avremo molto rispetto, quando vi vediamo... Adesso ci facciamo prestare il fischietto da... Bene, bene. Da, 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 come si chiama? Stefano, che così... Allora, previsioni? Queste signore pensi che riusciranno a trainarti fino a... Alla grande, alla grande. Ho il cervino sullo sfondo, se non altro, ogni come vada, sarà un successo.